Da tre anni la comunità di Montemiletto ha la fortuna di godere della forza e della tenacia di Don Riccardo Mais, parroco che è nota, è entrato nel cuore della popolazione erpina della Leonessa. Il parroco è molto attivo sia nel sociale, sia nella vita della diocesi, ma soprattutto nella vita della fratellanza e della beneficenza. Don Riccardo, arrivato dal villaggio di Eldolet poche settimane fa, ha raggiunto la sua città natale per donare delle divise sportive ai bambini dell'Africa orientale, rendendoli felici e strappandogli per pochi giorni sorrisi a 32 denti. Attivo anche nella realizzazione teatrale del Lions Montemiletto con il presidente Davide Petrillo, coinvolge attori diversamente abili perché crede nell'operato di tutti e insieme al club sportivo di patrono Franco Fabbricatore ha messo su una collaborazione attiva sul territorio. Don Riccardo ci ha rilasciato una breve intervista dove con la sua tenera e flebile voce e un sorriso davvero emozionante e coinvolgente ci spiega la sua vita per la comunità montimilettese e il suo sogno nel cassetto, quello di realizzare un vero campo di calcio nel villaggio di Massaba in Kenya. Don Riccardo Mais, un po' l'anima di Montemiletto, si coniuga sport e sociale, bellissima la collaborazione con i Lions Montemiletum per la messa in atto di una compagnia teatrale che coinvolge persone diversamente abili. Come nasce questa collaborazione con il club sportivo? Nasce, posso dire, dall'amicizia e vicinanza che abbiamo tra di noi a Montemiletto e Lions è una delle associazioni che stanno qui a Montemiletto che sfolgono delle attività per il popolo. Allora, essendo una cosa importante nel paese, la parrocchia collabora con Lions. Abbiamo messo in atto questa attività per diversamente abili e un teatro per dare loro un'opportunità di divertirsi e avere quei momenti belli insieme. Allora, è stata una cosa bella e ringraziamo Lions che hanno collaborato con noi. Com'è la risposta della comunità? Queste collaborazioni vengono ben accette da tutti? Sì, certamente qualsiasi collaborazione viene con un po' di impegno, non è facile collaborare sempre, ma nonostante ciò trovando i mezzi di metterci insieme riusciamo a fare delle belle cose. Anche abbiamo fatto un preseppe a Monte Aperto e è venuto benissimo. Lei proviene dal Kenya, insieme alla società dei Lions di padrone fabbricatore ha donato delle maglie dei kit sportivi presso due villaggi in Kenya. Come mai ha voluto compiere questo gesto? Posso dire, è una continuazione di quell'amicizia che abbiamo, quel fatto che l'amore non ha fine, è una cosa aperta come un oceano che vedi l'inizio ma non vedi il fine. Allora, Monte Mileto è un luogo, un paese aperto, essendo anche un luogo centrale verso Avelino e Benevento, ma va oltre questi luoghi anche fino in Kenya, dove abbiamo avuto questa cosa bella, in cui abbiamo condiviso la divisa, magliette, quello che veniva da Lions, e abbiamo portato in Kenya, in un villaggio che si chiama Tulwet e Masaba, in Wasingishu. Abbiamo fatto una partita, infatti, insieme anche ho giocato. Che ruolo è lei? Numero 11. Esterno sinistro, esterno d'attacco. Sì, attacco. Una cosa bellissima, perché anche essendo là, diciamo, da 1994, non ho mai giocato in quel campo, perché abbiamo giocato in un campo sportivo della scuola primaria, dove studiavo tanti anni fa, è stata un'emozione grandissima. Abbiamo visto anche le fotografie che la società ha postato sui social, con le magliette e con la partita di calcio, è stato emozionante tornare a disputare la gara dove si è cresciuto, e poi con le maglie di appartenenza, perché adesso è Lions e casa per lei. Sì, è stato bello, perché anche vedendo quei ragazzi che portavano le magliette di Lions, ho avuto questo sentimento di appartenenza, sia qui a Montemiletto e là, perché avendo quelle magliette da Lions in Kenya è una cosa bella. E poi erano molto contenti i ragazzi e mi hanno detto, perché davvero abbiamo portato magliette per un squadra, e quell'altro ci ha detto, portateci anche le magliette e poi non abbiamo portato le scarpe e speriamo che... Il prossimo step, regaliamo le scarpette ai bambini e ai ragazzi del Kenya. Questa sarebbe una cosa bellissima e poi anche se hai visto sulla foto il campo è proprio terra a terra, se possiamo anche riusciamo a mettere un campo un po' ordinato, sarà una cosa bellissima per quei ragazzi, perché sai, non è che hanno lavoro, qualcuno lavora, qualcuno studia, ma tanti di loro non fanno niente, allora avere quel momento del sport può sviluppare i talenti che possono migliorare la vita e mi auguro che ci sarà questa collaborazione anche per i ragazzi del Kenya e di Montemiletto.